Musica Mister Nocera, è finita 0-0 questa gara di andata, una semifinale in cui i toni agonistici soprattutto nel primo tempo hanno prevalso c'è stato poco spettacolo da questo punto di vista, se ne è visto di più nel secondo tempo certo la posta in palio è importantissima e tra 15 giorni a Città Nova sarà una gran bella partita Sì, è stata una partita maschia, una partita combattuta specialmente a centrocampo con due squadre che entrambe vogliono proseguire il cammino in Coppa Italia che è un cammino prestigioso, siamo venuti qua oggi con una formazione risicata, ci siamo battuti per tutti i 90 minuti spero sia di buon auspicio, sperando quanto prima di recuperare gli effettivi per poter essere competitivi La seconda volta che Bocale e Città Nova si affrontano, anche in quel caso in campione della fita in parità è una sorta di remake, è stato quest'oggi, anche se si è visto una partita completamente diversa rispetto a quella era stata molto più spettacolare, molto più aperta se così possiamo dire Sì, oggi è stata molto più tattica perché la posta in palio è il passaggio del turno quindi se sbagli la partita poi sei tagliato fuori da parte nostra, ti ripeto, siamo venuti qua giocando con un 3-5-2 o un 5-3-2 che si voglia abbottonato avevamo delle assenze importanti specialmente in fase di stoccate in avanti stiamo cercando di recuperare qualche calciatore e tutto sommato nel secondo tempo abbiamo provato a muovere qualcosina in più peccato per l'occasione nella prima frazione di gioco con Scarcella che è stata tutta l'area di rigore però bisogna dire che è stata una partita combattuta, giocata alla pari come è stata quella del campionato anche se in maniera diversa, sono due squadre che alla fine si annullano Prima del match di ritorno ci saranno ovviamente le due gare di campionato che vi attendono in cui Cittanova cercherà di recuperare qualche punto dalle squadre che stanno davanti troppi pareggi vi hanno danneggiato nel vostro cammino Sì, indubbiamente i pareggi ci hanno rallentato questa corsa bisogna prendere atto che la realtà è questa troppi pareggi, ci siamo distanziati dalla prima della classe però l'unica cosa che dobbiamo cercare è quella di poter lavorare andiamo sicuramente a prendere qualcosa dal mercato che ci torna utile sappiamo di avere qualche carenza in qualche zona del campo e sicuramente vediamo di aggiustare il tiro per poter continuare a fare un campionato diverso da quello dell'andata Grazie a voi Mister Saviano, 0-0 questa semifinale di andata contro il Cittanova resta tutto in bilico in vista della gara di ritorno una partita in cui forse la posta in palio si è sentita anche nell'agonismo che le due squadre hanno messo in campo e soprattutto nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni da gol se non nel finale poi il secondo tempo è stato un po' più vivace soprattutto da quando è entrato in campo Alegria ha dato una sterzata decisa alla partita due belle squadre, due squadre forti devo dire che si sono combattuti alla pari è uscita una bella partita al primo tempo un pochettino col vento un po' troppo forte diciamo che ha rovinato un pochettino il gioco però al secondo tempo poi penso che avremmo meritato qualcosa in più visto le occasioni, visto il miracolo del portiere un'altra idea sbagliata da tossi di testa diciamo che il nostro portiere non ha fatto un intervento quindi dei punti avremmo meritato qualcosa in più è una Coppa Italia dove nella semifinale si gioca a 180 minuti quindi è andata in ritorno è uno 0-0 che per tutte e due le squadre va bene Domenica c'è invece il campionato e Bocale atteso dalla trasferta contro la seconda in classifica contro il Soriano arriva a questa partita con l'assenza di un Ruti squalificato però ci sarà un altro elemento sul quale puntare ovvero Nando Guerrisi che potrà dare una mano importante al centro campo Sì sì ci sarà Nando e speriamo qualcun altro che stiamo chiudendo a breve perché la società è molto attiva sul mercato vede che i ragazzi stanno dando il massimo quindi stiamo cercando insieme alla società qualcuno che ci possa dare una mano d'aiuto in questo girone di ritorno che sarà difficilissimo visto il girone di andata in un campionato molto difficile quindi sarà un girone di torno ancora più difficile dell'andata andremo a Soriano una squadra che sta andando alla grande una squadra allenata dal mio mister Giovinazzo un amico mio e quindi andremo là sicuramente ad arcare la pelle non andremo là da vittima sacrificata stiamo bene fisicamente ho fatto riposare per questo Allegri e Sapone proprio per cercare di andare a Soriano ed essere in una condizione più che perfetta Un vocale che finora in campionato in trasferta si è sempre comportato molto bene tre vittorie addirittura sono arrivate le ultime delle quali consecutive e nel mese di dicembre tra la campionata e Coppa saranno 4-5 partite si spera 5 ovviamente ma 4 sicure di cui 3 in trasferta appunto Soriano la semifinale di ritorno a Città Nova e Paola un vocale che potrà continuare quindi si spera su questa scia ma noi ti ripeto in questo momento non guardiamo in casa o fuori casa dobbiamo affrontare le partite in tutta la stessa maniera per noi non esiste giocare in casa non esiste giocare fuori casa quando arriviamo la domenica per noi è come una finale e affrontiamo tutte le partite sia in trasferta che sia in casa allo stesso modo adesso andiamo ti ripeto a Soriano campo difficilissimo andremo a giocarcela alla pari non siamo inferiori a nessuno l'avevo detto in inizio del campionato l'avevo detto quando abbiamo perso 3 partite consecutive che è una squadra forte che se la può giocare con chiunque alla pari lo stiamo dimostrando veniamo da un periodo diciamo buono dove sono mi sembra 4-5 partite non perdiamo tra Coppa e Campionato quindi cerchiamo di continuare così perché la società merita meritano questi ragazzi meritano il vocale calcio grazie grazie